Prima di immergerci nelle eccitanti novità natalizie, assicurati di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. E ora, una sorpresa natalizia sta per illuminare il cammino dei lavoratori pubblici. Giorgia Meloni ha appena svelato la notizia che renderà il Natale del 2023 indimenticabile per i dipendenti statali. Un regalo atteso, un aumento di 2000 euro in arrivo. Questa somma extra è il risultato dell'anticipo del rinnovo contrattuale siglato quest'anno, grazie all'intesa tra governo e sindacati del pubblico impiego. Sarà incluso nella tredicesima mensilità, ma con un tocco distintivo, comparirà come una voce separata nel cedolino, sottolineando la sua natura speciale come emolumento distinto. Ma come si è arrivati a questa decisione? Il decreto sugli anticipi, attualmente in discussione al Senato, è stato fondamentale. Con un finanziamento di 2 miliardi di euro, circa 2,5 milioni di italiani, dipendenti statali, saranno coinvolti in questo regalo natalizio. Tecnicamente, è l'anticipazione del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale maggiorata, una boccata d'aria fresca che arriva prima del previsto, e i numeri nei cedolini saranno da record. Un impiegato di base percepirà in media 709 euro, mentre un direttore dello stesso ministero si avvicinerà ai 2000 euro. Questa notizia è un vero tocca sana per il morale natalizio. Ricorda di commentare cosa ne pensi di questo generoso regalo natalizio per i lavoratori pubblici ed i, iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Facciamo insieme il countdown a questo straordinario regalo di Natale.